In una terra assegnata dalla rovina, dove la paura e il terrore fanno da padroni, una terribile maledizione si spande in ogni dove. Tre eroi si ritroveranno uniti nel destino per riportare la pace e l'ordine. Benvenuti nel magico mondo di Try. Benvenuti nel magico mondo di Try. Non so perché, visto che a causa della maledizione tutti i castelli sono stati abbandonati, però potremmo passare tranquillamente all'entrata principale. Noi furbi andiamo per le catacombe, dove ovviamente ci sono gli scheletri che ci aspettano. Chissà qua. Chissà qua. Chissà qua ci sarà qua. Là c'è esperienza mia. Qua c'è esperienza mia. Che fatta? Presa. Eh, presa. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Dannazione. Crolla! Sapevo! 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 Provaci di nuovo un altro giorno. Non ti sentirai più fortunato. Mieches! Ma non l'armatura! Sono le guardie morte del castello! Nei sotterranei, perché? Ma sono le guardie! Qual'armatura! Più difficile da buttare giù. Uh! Sembra più difficile! No, adesso comincerà a costringermi a usare le casse. E quindi a usare il mana. Attenzione. Eh eh eh! Con... Con che violenza, signore! Ma c'è la mia ombra! Ma che figata è la mia ombra sul muro! Bello! Ah ecco perché non è legno. Sono travi di ferro. E la luce di questo sotterraneo arriva da... Ho capito! Ho capito! Va bene! Metto la trave! Mia però! No! No! Certo se la trave la mettiamo più avanti magari potremmo fare qualcosa ma... Va bene, va bene, va bene. Sì! Gia! Siamo tutti in fin di vita! Siamo tutti in fin di vita! A causa di Amadeus che non sa piazzare le travi! Agua! Ho capito! Non bisogna premere i pulsanti! Aia! Con che cattiveria! Aspetta che risalga almeno! Con che cattiveria! Allora! Amadeus non puoi spostare queste cose? No! Palle di fuoco? No! Non le facciamo! Sono inutili! Che te vengi un canchero! No! Mi ricordo a un livello di Mario Bros! Queste... Eh! Oh mio Dio! È arrivato solo Amadeus! Aaaaaaah! Non voglio morire! Non al sesto o settimo livello! Scenderà sta cosa o devo arrangiarmi? Oh! Sta scendendo! Sì! Sì! Ho di nuovo Amadeus! Niente mi può fermare! Ho di nuovo... Aaaaaah! Che sto facendo? Vabbè c'è chi è questa? Aaaaaah! Ci sono queste cose! Tutto acciaio in sto posto! Che scatole po'! Aaaaaah! Voglio il martello di Pontius! Ne ho nostalgia! Con quello sì che mi sbarazzavo di stiaffare in un secondo! Sono solo ossa animati da cattive intenzioni! Cosa vuoi che possano fare mai? Cosa fa questa leva? Aaaaaah! Perfetto! Non volevo cadere! Se io vado qua sotto fiume... Molto più di fiume! C'è un'intera stanza qua sotto! Quasi! Mamma mia! Mamma mia! Dai! Forza! Forza! Dai! Tempismo! Il tempismo! Dov'è? Il tempismo dov'è? Il tempismo dov'è? Il tempismo dov'è? Eccolo! Eccolo! Signori! Eccolo il tempismo dov'è! Là! Sapevo che si apriva quella! Devo tornare giù però prima! Dimmi te che selfie! Spada fiammeggiante? Assolutamente! Aaaaaah! C'è il pugno! E so per cosa! So già per cosa! L'ho visto prima! Pensavo di non poterlo sfondare! Invece adesso! Cazzam! Scrigno! Come se ti potevamo mancare! Vieni qua! Il cristallo della salute è incantato! No mi sembra più lunghi tra le altre cose! Aumento del 5% dell'effetto di ogni pozione di salute raccolta! E di ogni bonus della salute rilasciata! Come sta andando bene la giornata oggi! A parte trappole fiammeggianti! Mostri assurdi! Scheletri con armatura! Cosa in cui casco! Eh troppo astuto il gioco! Troppo astuto! Che c'è qua giù? Ma la precisione millimetrica signori! La precisione millimetrica! Ma! Come ci arriviamo là sopra? Ho paura che io non possa aggrapparmi con i rampini alle mie casse! No! Infatti! Ma posso fare così! Eh cosa combino con questa leva? Alzo quelli! Eh! Mamma mia che labirintico sto posto! No! No! Amadeus grande schivata! Qua sotto C'è il checkpoint! Quindi! Questa cosa deve crollare! Oh no! Si fa il giro! Ok si fa il giro! Oh! No! Mostro assurdo! Mostro assurdo! Preso! La faccia è sul punto debole! La faccia è sul punto debole! Mio! La faccia è sul punto debole! La faccia è sul punto debole! La! Ah! Avevo lo scudo! Non mentire! Avevo lo scudo! La! La! Siamo entrambi in fin di vita! Ma l'avrò vinta io! No! Ma l'avrò vinta io! Amadeus! Ciao! Corri Amadeus! Corri! Veloce come il vento Amadeus! Corri! Dove sto andando? Ma l'armatura sto tipo... Preso! Face Tomp! Ok! Rilassiamoci un attimo! Maduro! Bastà! Mamma mia! Devegni un coccolo! Cos'è sto posto? Che brividi! Come al solito Ponzi non ha capito assolutamente niente di tutto questo! Sto solo seguendo involontariamente la turma! Il gruppo! Il secondo artefacte, quello di mente e potenza, ha proteguto il castello e ha avvuto l'aria. Qu'è due? Un'ai l'induzza con un pure pensio... E' proprio per questo che ho detto è inutile passare dagli sotterranei perché tanto sono non morti ovunque vada l'entrata principale mi ha fatto errore spero che il video vi sia piaciuto questo è il prossimo mamma mia spero che vi abbia divertito ci vediamo nella prossima puntata da serie Trine ciao a tutti mamma mia la paura i suoni inquietanti